La fette principale di Gavine, che tra tutti gli uomini, è sulla giustezza età. Sento vicinarsi nei passi casi come la minaccia che viene verso di noi. Non mi distingo bene però dall'odore sono, cerco di sapere chi sono, tu no, tu no, tu no, tu no, tu no. È probabile che non sappiate che sul pianeta ci sono esseri chiamati uomini. Ora sono fatti uguali come noi con le gambe in nasa, camminano per dire che guardano con gli occhi anche io. La fette principale di Gavine, che tra tutti gli uomini, è sulla giustezza età età. Apparentemente noi siamo uguali, ma è una burchia, è una differenza, è davvero immensa. La fette principale di Gavine, che tra tutti gli uomini, è una burchia, è una burchia. La fette principale di Gavine, che tra tutti gli uomini, è una burchia, è una burchia. La fette principale di Gavine, che tra tutti gli uomini, è una burchia. La fette principale di Gavine e le scelte principale di Gavine, che tra tutti gli uomini, è una burchia. sono certo di sapere chi sono è probabile che non sappiate che sul pianeta ci sono esseri chiamati uomini non sono fatti guardati come noi come gambe il naso camminano per dire che guardano fa gli occhi anche gli occhi è principale di cammini con gli adulti e uomini potessi tradizionale apparentemente noi siamo uguali ma è una buchia è una differenza è davvero immenso diciamo e è che è un po Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.